Arrivano da due vittorie Montesilvano e Giulianova che inseguono i rispettivi obiettivi. Quello di salvarsi per i padroni di casa, vincere per restare in scia dell'Avezzano per gli ospiti. Mister Antignani deve fare a meno degli squalificati Marcedula e Sammaciccia oltre agli infortunati D'Agostino e Tassone. Gli ospiti si affidano a Sisse, Persiani e Buonavoglia per continuare a volare. Fischia Luca di Monteodorisio di Vasto. Al primo affondo il Montesilvano passa in vantaggio. Cavallucci in buca per Majorani che col sinistro batte Boccanera. Quinto centro in campionato per il capitano Verdeoro. La reazione giugliese affidata a Federico Di Paolo che colpisce bene ma non inquadra il bersaglio grosso. Alla mezz'ora decisamente più ghiotta l'opportunità per pervenire al pari. Ubertini risponde presente sulla conclusione di Di Paolo. L'azione prosegue e Buonavoglia calcia a colpo sicuro trovando il miracolo del portiere di casa. L'1-1 è solo rimandato. Sugli sviluppi di un corner Rinaldi indirizza il pallone per Sciarretta che da due passi batte di testa Ubertini. Prima gioia per il difensore 2002 nato sportivamente, ironia della sorte, nella scuola calcio dell'Acqua e Sapone. La ripresa si apre con una punizione velenosa ma imprecisa di Rinaldi. Mister Antignani entra in campo e rischia subito di mandare in delirio i suoi sostenitori. Girata spettacolare e palla fuori di nulla. A metà frazione il Montesilvano resta in 10. Doppio giallo per Besin Maloku che lascia i suoi in inferiorità numerica. Mister Cerasi mette in campo tutta la qualità che ha in panchina per vincere la gara. Azione personale di fermo che rientra e col sinistro fa impazzire di gioia i tanti tifosi giunti a Montesilvano. La sua giornata regala un altro sussulto poco dopo quando il numero 17 cambia piede ma non l'esito del tiro. 1-3 è gara totalmente in discesa per la vicecapolista. I giallorossi nel finale dilagano grazie prima a Cappelli che finalizza il suggerimento di Sisse e poi con Africani che parte sul filo del fuorigioco e con un elegante pallonetto scrive il definitivo 1-5 sulla partita. Il Montesilvano non riesce a sfatare il tabù interno. Il Giulianova cinico e spietato nella ripresa si regala un pomeriggio da sogno. Mister Cerasi era fondamentale oggi vincere, restare in scia l'Avezzano, l'avete fatto con tantissimi gol però al di là del 5-1 è stata anche una prestazione sofferta prima del vostro 2-1. Sì è stata sofferta perché noi sapevamo pure della forza loro in casa ma hanno messo pure in difficoltà diverse formazioni che sono venute qua. È una squadra giovane pure loro che fanno della corsa, fanno del dinamismo, fanno del ritmo, dell'intensità, le loro armi. Temevamo tantissimo questa partita quindi non è stata facile anche se il punteggio può sembrare così rotondo ma loro sono passati in vantaggio, sono la nostra disattenzione però è stata una partita complicata pure a livello proprio di campo di trovare l'ultimo passaggio, di trovare quel fraseggio che noi di solito riusciamo a fare e qua abbiamo fatto fatica. E' merito anche dell'allenatore che ha pescato 4 gol dalla panchina? Queste cose spesso soffrutte pure di casualità però ragazzi come Marco Fermo che viene da un lungo periodo di stop per i quali fisici è un ragazzo che sinceramente con questa categoria c'entra per ben poco quindi è un ragazzo che il nostro acquisto di dicembre questo piano piano darà il contributo come lo sta dando tutti, l'ho detto lui ma lo lo sta dando tutti, poi quelli che entrano dalla panchina e se entrano con questa determinazione e questa voglia faranno bene sicuramente. Hai detto bene, hai detto bene, ha pescato i gol dalla panchina, come al solito io sto qui a ridire sempre la stessa cosa, siamo una squadra molto giovane, loro giovani forse più di noi, forse, no forse, correvano più di noi e hanno un pizzico in più di cattiveria, 4 gol del secondo tempo poi la dicono lunga dopo l'espulsione di Malogu, dopo che abbiamo subito un paio di falli non giustamente fischiati e alla prima noi ci buttano fuori subito il giocatore, ormai è sistematico, ma non è questo l'alibi del risultato, il risultato ci sta perché sono più forti, se stanno secondi con qualcosa in più, tanto ce l'hanno, è brutto perché perdi con 4 di rimporta la partita poteva finire solo 2 a 1, ho avuto l'occasione io se vai sul 2 a 1 un'altra partita e gli episodi purtroppo ci condannano però, cioè non eravamo fenomeni domenica scorsa a Città Sant'Angelo, non è che siamo brocchi oggi, la squadra nostra è questa, una squadra che ho sempre detto che può fare un risultato allucinante come può perdere 5 a 1 con 5 di rimporta con Giulianova, complimenti al Giulianova, noi ci rimbocchiamo le mani che pensiamo già domenica prossima.